Stop al blocco del credito. La regione torna ad investire sul bando Trunched Cover, già rivelatosi efficace in Puglia ed in Veneto. Una boccata d'ossigeno grazie ai 12 milioni e mezzo di euro a favore di tre banche, la Popolare di Bari, Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. I fondi serviranno a garantire i prestiti delle imprese scartate dal sistema bancario. In cambio però le aziende dovranno impegnarsi a puntare sull'innovazione. Il bando è rivolto a grandi imprese industriali e micro aziende come in Bianchini, idraulici ed elettricisti. Le banche sviluppano crediti per investimenti di 215 milioni di euro. Praticamente con 15 milioni di fondo di garanzia le banche aprono gli sportelli alle imprese che vogliono fare innovazione, che abbiano difficoltà a comprarsi macchinari o che vogliono consolidare i loro prestiti che hanno avuto, quindi i debiti che hanno con le banche. L'interesse sui mutui, sarà più basso di quello del mercato, dal 3 al 5 per cento, con un risparmio di 200 punti di spread. Dai 50 ai 700 mila euro i prestiti concedibili. Le domande saranno selezionate entro un anno dalla società in Nuova Puglia. Doppio il vantaggio, le banche apriranno i cordoni della borsa perché maggiormente garantite le aziende otterranno più fondi riducendo il costo del danaro. Sicuramente c'è grande interesse per questo strumento, tra l'altro è particolarmente innovativo, è la seconda volta che si verifica in Italia un processo del genere e quindi sicuramente ci saranno imprese interessate a questa forma di investimento.